salve a tutti siamo qui riuniti con federico e giorgio per farvi un annuncio pratico riguardo al progetto di aiuto cassa comune noi stiamo ricevendo come ben sapete molte proposte di donazioni cioè di persone che hanno la possibilità di donare a tutte le altre persone che invece hanno bisogno di ricevere aiuto per via del ben noto lascia passare che sapete in questo momento ci sono tante persone che hanno perso il lavoro ora la nostra realtà può fare da ponte cioè può far comunicare i donatori con i ricevitori in qualche modo però per farlo noi non abbiamo una segreteria così grande da poter gestire questa richiesta e proposta e abbiamo fatto già con redroni nel programma coscienza un appello a tutte quelle associazioni e qua c'è un riepilogo che vi faccio vedere tutte quelle associazioni che o enti che nel loro statuto e nelle loro finalità o attività abbiano la possibilità di ricevere e di ridistribuire delle donazioni con dei progetti che significa ovviamente ci sono sia scuole alternative che medici che sono rimasti fuori appunto dal lavoro e altre categorie quindi dei progetti di aiuto a tutte queste categorie l'associazione chiaramente deve averlo già fatto perché iniziare adesso sarebbe molto complesso quindi noi abbiamo messo il parametro almeno cinque anni di attività ma ci hanno scritto altre associazioni che hanno tre anni di attività in qualche modo si può vedere si può rivedere questo parametro dipende poi dalla serietà dal tipo di impegno dell'associazione chiaramente deve essere un'associazione o un ente a partitico e a politico per non mischiarci in in diatribe strane che non ci interessano non ci appartengono tutto questo perché per noi è molto importante la trasparenza cioè dobbiamo sapere da dove arrivano e dove finiscono queste donazioni e farvelo sapere soprattutto in modo che non si crei caos quindi la possibilità di rendicontare tutto quello che arriva e viene ridistribuito per cui ci vuole anche una segreteria abbastanza efficiente questa associazione deve avere delle persone al suo interno che possono occuparsi se non 24 ore almeno buona parte della giornata a ricevere le email e rispondere e anche indirizzare le persone che scriveranno quindi associazioni scriveteci a ve lo farò comparire anche in sovrimpressione hv esoterica chiocciolaiau.it l'oggetto della mail deve essere proposta progetto cassa comune e chiaramente da parte delle associazioni che ovviamente possono rispondere a questo progetto che è molto pratico dunque noi abbiamo già ricevuto alcune email dopo il programma con red ronny e vi faccio comunque un invito non scriveteci le vostre idee non scriveteci in questa fase se non avete un'associazione con queste caratteristiche non scriveteci per ricevere aiuto a noi nella mail di caura esoterica in questo momento perché si creerebbe solo caos siamo in poche persone ripeto a dover gestire la mailing list le email eccetera ma solo le associazioni devono scrivere poi vi diremmo nelle prossime settimane a quali associazioni rivolgere rivolgere le donazioni le richieste di aiuto quindi innanzitutto ringraziamo chi ci ha già scritto di queste associazioni maria di contiamoci giovanna di image art life on loose patrizia di arcobaleno e rossi di tea ps noi vi chiameremo la prossima settimana o fra 15 giorni cerchiamo di organizzarci anche con le nuove che ci iscriveranno faremo delle skype o delle zoom per coordinarci non è escluso che diciamo si crei anche una rete di associazioni perché magari non ne basta solo una però mi raccomando questi sono i parametri ora lascio la parola a federico e a giorgio ciao a tutti ciao a tutti allora lì si è stata chiarissima concreta precisa e quindi questo video quello che dovevamo comunicare in gran parte già stato comunicato quando è stato lanciato il progetto cassa comune a fine settembre è stato accolto da parte vostra in qualunque modo sia con dei soldi sia alcuni con dei pezzi di terra quindi tantissimi avete accolto questo invito a unirci a far parte di questo progetto ad aiutare a coloro che in questo momento sono in difficoltà ma in una previsione futura per iniziare un nuovo un nuovo cammino e quindi abbiamo visto che tutto l'entusiasmo e tutti e tutta la risposta che c'è stata abbiamo avuto bisogno di di professionalità di professionalità ancora maggiore rispetto a quella che essendo noi in pochi possiamo possiamo avere possiamo dare quindi questo è quanto grazie a tutti allora i punti precedenti sono anche per mediali sottolineo l'importanza di fare riferimento a questa iniziativa per tutte le persone che hanno esperienza effettiva nei settori più delicati settore sanitario medico assolutamente settore legale e settore economico nel senso di amministrazione tutte le attività di supporto che saranno necessarie l'entusiasmo è importante però importante la competenza delle persone specialmente quelle appunto come è stato detto che sono trovate diciamo immarginate in questa situazione quindi questi tre campi particolarmente ma anche nel campo della didattica nel campo dell'educazione dei bambini tutto quello che è fondamentale la struttura di una società deve essere implementato da persone che hanno capacità reali capacità lavorative già collaudate in modo da formare la struttura di una comunità solidale una comunità umana veramente nel senso più profondo che sappia reggere la prova di questi giorni grazie grazie